Ha accusato un malore mentre era in mare e ha rischiato grosso. Provvidenziale l'intervento di due bagnini della cooperativa Poseidon per un giovane straniero di 24 anni, probabilmente tedesco, che è stato portato in salvo. L'episodio si è verificato sulla spiaggia di Gela nei pressi dell'ex Lido Eden. Una volta soccorso il giovane è stato allertato il 118 e il personale medico arrivato rapidamente sul posto ha prestato le prime cure allo sfortunato bagnante, poi trasportato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. Grazie a tutti.